Picchiato nell'area esterna del tribunale di Sulmona finisce in ospedale, vittima dell'episodio e un 56enne residente a Sulmona che questa notte dopo le tre staro soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino, l'uomo da quanto emerso dalle prime testimonianze sarebbe stato aggredito da due persone per circostanze ancora imprecisate. Gli aggressori dopo le botte si sono dileguati, tant'è che è stato lo stesso 56enne ad allertare i numeri di emergenza. L'uomo che ha riportato abrasioni sul volto e altre ferite non è riuscito a ricostruire l'episodio né a fornire particolari dal momento che era sotto effetto dell'alcol visto l'alto tasso alcolemico accertato dai medici. Ai carabinieri che indagano sulla vicenda il compito di fare chiarezza, i militari cercheranno anche tra le telecamere di videosorveglianza collocate nell'area del tribunale e nel centro storico dal momento che tracce di sangue sono state rinvenute anche in via Denino. Sul posto è intervenuta pure la polizia. Il 56enne al termine degli accertamenti sanitari è stato dimesso poco dopo dall'ospedale, se la camerà con pochi giorni di prognosi.